Le forze irachene hanno respinto un attacco dei combattenti dell'ISIL contro la raffineria di Baegi, a nord di Baghdad. Gli estremisti erano riusciti a superare il primo perimetro di sicurezza quando sono stati bloccati dalle forze irachene appoggiate dalla coalizione internazionale per via aerea. Baegi si trova a nord di Tikrit, riconquistata lo scorso mese dalle forze irachene sulla strada per Mosul. La raffineria è tornata nelle mani dei governativi lo scorso novembre dopo cinque mesi di assedio. Baghdad, adesso impegnata su due fronti, ha annunciato di voler lanciare a breve, assieme alle forze kurde, un'offensiva per riprendersi Mosul, considerata dal sedicente Stato islamico la capitale del califato e combatte contro gli estremisti nella provincia occidentale di Al-Ambar.